avere un armadio minimale risulta fondamentale un'ottica di economia circolare ogni anno in europa si generano circa 25 kg di rifiuti tessili a persona e questo non è più sostenibile perché quando io produco un capo di abbigliamento utilizzo delle risorse limitate come l'acqua per esempio sai che per produrre una t-shirt di cotone si utilizzano circa 2.700 litri di acqua quello che una persona beve in media in due anni e mezzo inoltre ci troviamo spesso a comprare capi prodotti con obsolescenza programmata cioè progettati per essere indossati due tre volte poi essere gettati in un cestino pensa che se la vita di un capo si allungasse di nove mesi ci sarebbe un risparmio del consumo di acqua e di co2 di circa il 30 per cento per ogni capo la soluzione principale iniziare ad acquistare capi di qualità progettati per durare ma cosa fare quando un capo è diventato troppo vecchio come si può trasformare una nuova risorsa la prima cosa è chiedersi posso riutilizzarlo oppure posso donarla a qualcuno che lo apprezzi davvero ci sono molti modi semplici per regalare o rivendere i tuoi vestiti li puoi vendere online li puoi portare mercatini dell'usato oppure semplicemente puoi organizzare uno sbopparti con i tuoi amici basta scegliere se invece la loro vita è proprio finita li puoi riciclare li può portare a cassonetti urbani dove vengono differenziati in base alla loro qualità possono essere riciclati per lo più a scopi industriali riutilizzati portati nei paesi in via di sviluppo oppure smaltiti in discarica se invece vuoi essere sicuro al cento per cento di dove finiscono i tuoi vestiti puoi utilizzare i nostri servizi di raccolta come rifò stiamo cercando di fare una rivoluzione in collaborazione con natura si pinori filati recuper e altri cinciaioli pratesi stiamo cercando di trasformare quello che di solito viene considerato un rifiuto in una nuova risorsa al momento abbiamo attivi due servizi di raccolta uno che riguarda i capi cento per cento cashmere e uno che riguarda i vecchi jeans puoi infatti inviarci direttamente i tuoi vecchi maioni di cashmere oppure portare i vecchi jeans nei negozi in natura si aderente all'iniziativa qui sotto puoi trovare tutte le informazioni vuoi contribuire al nostro processo di economia circolare condividi questo video e partecipa alla nostra raccolta